Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Dungeon Alliance, che è uno dei giochi che, vi devo dire la verità, in questo 2019 mi ha incuriosito più di tanti altri perché ci ho visto non soltanto, ovviamente il gioco come potete immaginare, Dungeon Alliance, è un dungeon crawler, quindi nello stile di Massive Darkness, Hero, questo giochi del genere. Forse questo va più verso Hero Quest che non è un Massive Darkness, ora poi vi farò vedere come funziona. Ma, dicevo, è uno dei giochi che mi ha attirato di più perché ha delle meccaniche interessanti. Intanto ringrazio la Quixotic Games per avercene fornito una copia per le recensioni, non tanto una copia per le recensioni quanto tutto quanto il Kickstarter, come vedete qui davanti, che comprendono il gioco base, seconda edizione ragazzi, questa è la seconda ristampa, quindi è uscito praticamente veramente da pochi giorni, massimo un mese, e questo è il gioco base di Dungeon Alliance. Da questa parte qui davanti vedete la prima piccola espansione, che è un tile di gioco, più 9 carte, più 4 nuovi eroi, e qui davanti due nuove avventure, che poi sono due pacchettini con due avventure e due avventure, quindi sarebbero quattro, per la prima vera e propria campagna del gioco. E vi dicevo, Dungeon Alliance è molto interessante come gioco perché è un dungeon crawler, ok, quindi fin lì entra nel dungeon, ammazza il mostro, arraffa il tesoro, batte il boss e scappa. Ma la cosa interessante di questo gioco è che è misto dungeon crawler e deck building, perché in questo gioco c'è un dado soltanto, che serve per tirare per piccole azioni nel dungeon, come vi lo faccio vedere, aprire porte segrete o disarmare trappole, ma per il resto ogni eroe si deve costruire un deck di carte, e praticamente giocando queste carte i vostri personaggi acquisteranno abilità, come lanciare incantesimi, oppure armi, armature, colpi critici e cose del genere, il tiro con l'arco a distanza. Insomma, qui per fare combattimenti non si tiene un dado, ma si va a vedere le caratteristiche del vostro personaggio. Le caratteristiche del mostro che andate ad attaccare, posizionate delle carte sotto di voi e il gioco finisce lì. Se il valore delle carte è più alto del valore di difesa del mostro, il mostro subisce tot ferita per la differenza che c'è fra l'attacco e la difesa. Ma uno direbbe, vabbè, bellino, perché dungeon crawler con le carte. Finito qui? No. La figata di questo gioco è che ha un fottio di modalità, ragazzi, in questo gioco ci potete veramente stare dietro per mesi, perché ha la modalità single shot, PVE, quindi giocate contro il dungeon, PVE cooperativo, quindi potete giocare con altri tre team in tutto a quattro persone, e ogni persona muove quattro eroi, sedici eroi in tutto, perché quattro per ciascun giocatore, ma la cosa figa è che lo potete giocare o in solo PVE, o in cooperativa PVE, o lo potete giocare in PVP, dove non soltanto PVE e PVP, non soltanto andate ad ammazzare mostri, ma potete uccidere anche gli altri gruppi di giocatori, perché alla fin fine vince la partita il gruppo che ha più punti esperienza, e questo gioco conta l'esperienza, no? E quindi dovete annullare gli altri gruppi, cioè fermarli, non tanto annullarli, rallentarli, perché se fanno più punti esperienza di voi avete perso la partita. Come se non bastasse c'è la modalità campagna, vera e propria campagna, nel senso che potete seguire una serie d'avventure, sia PVE che PVP, che creano una storia unica, e se non bastasse gli sviluppatori, tramite la prima espansione, quella che vedete qui davanti soprattutto, del Kickstarter, hanno messo anche la modalità quest. Quindi non solo ti fai la campagna, fai PVP, fai tutto quello che ti devo dire, ma magari c'è una quest che dice, non lo so, libera una fanciulla rinchiusa dentro un cristallo, o semplicemente trova un'arma magica e porta la via. Quindi c'è anche un sistema di quest. Ed è veramente molto bello. È un gioco da 1 a 4 giocatori, di un'età media, dai 12 anni in su, un gioco semplice, un gioco carino, non c'è violenza e cose del genere. La durata è abbastanza alta, perché a parte il setup iniziale, che ci vuole un attimino, almeno una ventina di minuti, mezz'ora, ma una partita può durare anche dalle 2 alle 3 ore. Quindi comunque il gioco dura un bel po', ed è un gioco comunque tranquillo, e lo potete giocare anche in solo. Non avete amici, lo comprate, e se non avete un gruppo, ci giocate da soli. Si può giocare in PVP, e tutte le modalità. Quindi, ancora una volta, ringrazio la Quixotic Games per averci mandato praticamente tutto il Kickstarter della seconda ristampa per un gioco che secondo me è veramente, veramente, ragazzi, molto, molto bello, ed è per questo anche che sono andato a richiederlo. Unboxing, confezione del gioco, molto bellina tra l'altro, molto colorata, e Ganda che si vede questi 4 eroi che sono al solito un mago, un guerriero o comunque paladino, vedete, un ladro, un assassino, una cosa del genere. Bellino perché di sfondo si vede anche l'ombra di un mostro, un boss, qualcosa del genere dentro il dungeon. Scatola abbastanza ridotta come dimensioni, e veramente, veramente molto bellino anche il layout Migar, ma anche i colori che hanno scelto, il tipo di disegno è molto carino. Apriamo! Manuale di gioco, ragazzi, in inglese, ovviamente, perché non è ancora stato portato in Italia, né tanto meno tradotto, né tanto meno hanno fatto pack di traduzione per la versione Kickstarter, quindi ve lo dovete prendere in inglese, però in inglese è proprio scolastico, è scritto veramente semplice, poi sto gioco ha tre regole in croce, è facilissimo. Riassunto delle regole per giocarle in modalità normale, che è quella che comprende anche il PvP, oppure modalità cooperativa, modalità PvE, modalità campagna, insomma, se uno non si vuole leggere il regolamento di gioco, ma dice, ma a me non me ne frega niente delle regole PvP, voglio giocarmelo in solo, si legge direttamente la parte sola in questo manualetto ed è già pronto per giocare. Tile di gioco, che sono piccolini, anche perché il dungeon che si va a comporre a volte è anche fatto da 10-20 tile, quindi diventa, sono piccoli, ma poi messi insieme diventa anche bello grande, e vari token, che sono tipo le zone di passaggio fra un tile e quell'altro, indicatori vari, token dei mostri, che questo è un punto a sfavore, ma ve lo dirò poi dopo a fine video, e altri tile vari, indicatori che ci sono all'interno del gioco. Divisori in cartoni della scatola, questa è la cosa più importante, bustine, dove mettere le carte ragazzi, conservatele sempre dentro perché se no vi si rovinano, l'unico dado del gioco che va con un valore di 0, 1, 2, e 3, ed è l'unico dado da attirare per fare piccole prove, non serve assolutamente per i combattimenti, indicatori punti ferita da mettere sotto i mostri, per ricordarvi di chi ha fatto ferite a mostri, vedete sono divisi per colore, perché in questo gioco ciascun team si deve scegliere un colore all'inizio che è rosso, blu, giallo o verde, biglietti da visita, se volete distribuirli del creatore del gioco, e le carte già divise per tipo, carte azione, carte potenziamento, carte personaggi e mostri, e per finire le miniature ovviamente rapportate ai tile piccoli di questo dungeon che sono piccoline però carine, queste forse sono un po' più complicate da dipingere, ve le facciamo vedere un paio, questa è una guerriera, per come avete visto sulla scatola, ve l'ho detto, sono semplici come miniature, tra l'altro forse un pochino troppo piccoline, qui c'è Dan Pazzi un po' a dipingerle, però sono carine, dai, sono fatte bene, poi è il classico personaggio di un fantasy, quindi ci sta, è un classico mago barra druido insomma, di questa ambientazione qua giù, un castante, belline, belline, ci stanno, fanno il suo, e questa ragazzi era la scatola base del gioco, adesso vi faccio vedere quelle altre cose che ci hanno mandato appunto delle espansioni e del kickstarter, la prima espansione Champions, da una a quattro giocatori, vedete, dall'altro piccolissima, cioè più piccola della mano, e questa qui comprende un nuovo tile di gioco, nuove carte e nuovi personaggi, vi faccio vedere, token per i mostri, quando vedete dei token piccolini così con tutti i numeri e lati, ragazzi sono sempre mostri, il nuovo tile di gioco, che è una zona particolare per questa missione che in questa espansione gli eroi devono compiere, una nuova miniatura, un arciere, un nuovo personaggio dei quattro che ci sono qua dentro all'interno dell'espansione, e nuove carte sia per i personaggi che per i mostri, vi ricordo che dentro questo deck trovate sempre le carte dei personaggi e le carte dei mostri, adventure pack, parte 1 e parte 2, carte storia, o comunque carte avventura, ve l'ho detto, carte quest, carte equipaggiamento e carte azioni, carte mostro, ovviamente per gli incontri che ci saranno e anche questo, carte sotto quest, tile di gioco, nuovi, nuovi incontri che si possono fare perché poi nel gioco ci sono anche gli NPC e ovviamente non potevano mancare come in ogni nuova espansione mostri e i vari livelli di mostri. Questi ragazzi, tutti e due, sono i nuovi pack avventura che potete prendere. Queste sono due serie d'avventure che dovete poi prendere insieme ma tanto non le potete comprare a parte, era a parte del kickstarter quindi una volta fatto il kickstarter questa roba vi arrivava tutta. Comunque c'è la parte 1 dell'avventura perché vi ho detto, nel gioco c'è una vera e propria modalità campagna che è questa qui, la parte 1, la parte 2, la parte 3 e la parte 4 che ovviamente andranno giocate tutti quanti in successione. Quindi come vedete ragazzi, come vedrete poi più avanti il gioco è molto semplice però di carne al fuoco ce n'è veramente veramente tanta. Vi faccio vedere un po' come funziona. Allora ragazzi, il setup del gioco è un po' macchinoso perché ve l'ho detto è un gioco di carte non è un gioco di dadi molto più semplice e veloce e immediata la Massive Darkness quindi il setup richiede un pochino di attenzione iniziale. Allora, questa è una mappa per due giocatori che vedete le pareti del dungeon quindi il tile esterno del dungeon all'interno le caselle di partenza perché noi abbiamo scelto un colore giallo per la squadra A e un colore verde per la squadra B e vi ricordo ciascuna squadra ha all'inizio da scegliere una mano di 4 eroi fra tutti gli eroi presenti nel gioco che poi sarebbe questo mazzone qua giù in fondo. Ciascuna squadra deve scegliere 4 eroi da questo mazzo e prendere le relative miniature che noi vi facciamo vedere. In una partita a 3 o 4 giocatori il dungeon ovviamente è più grande perché ci sono dei pezzi per allungare qua giù la strada e quindi per rendere il perimetro del dungeon molto più grande perché se no ci starebbero soltanto 9 tile qui dentro però in una partita a 2 giocatori schierate sempre la vostra parte iniziale di tile di partenza da una parte dalla parte a destra e l'altra parte quella verde invece dalla parte a sinistra quindi comunque dalla parte a est e dalla parte ad ovest dei col che abbiano l'entrata del colore che avete scelto per la vostra squadra quindi in questo caso giallo e verde descrizione di quello che vedete del tavolo da gioco della parte del giocatore in questo caso verde ha le miniature degli eroi i token degli eroi che sono token quando il giocatore l'eroe è pronto e token girato dalla parte rossa quando è stato utilizzato quindi una volta che avete fatto tutte le azioni con un eroe giratelo sempre dalla parte rossa per ricordarvi che l'avete utilizzato carte degli eroi come vedete qua sotto e le carte degli eroi comprendono il background qua sotto non è un'abilità speciale è la storia del personaggio un piccolo background immagine del personaggio quindi razza del personaggio e token delle classi icone delle classi che vedete qua giù quindi questa queste classi qui indicate e questa quest'altra che sono molto importanti queste figure qua giù perché le troverete su tutte quante le carte e praticamente la meccanica del gioco gira tutto intorno appunto alla razza e alla classe poi modificatore di attacco sia in corpo a corpo che a distanza in questo caso è da corpo a corpo c'è una spada se ci fosse un arco sarebbe a distanza in verde il valore di difesa e schivata del personaggio valore di movimento e punti ferita in fondo con la pozzoncina gialla qua sotto invece vedete i deck di partenza dei personaggi perché ciascun eroe ha tre carte di partenza che sono facilmente identificabili perché se vedete in bassa a destra ciascun eroe ha un numero ad esempio questa 4 e il suo mazzo di tre carte al numero 4 3 3 2 2 1 1 così quando le andate a cercare non impazzite perché sapete che ad esempio l'1 è il mazzo di partenza di questo personaggio l'1 non potrebbe essere il mazzo di partenza del 4 e quindi voi avete identificato le tre carte per ciascun eroe che in tutto sono 12 al momento che le avete identificate tutte quante dovete semplicemente prenderle tutte quante metterle insieme andrete a mischiarle tutte insieme così da fare un mazzo unico e poi di tutte queste carte di tutti questi eroi quindi le tre di partenza di ciascuno che avete qui dentro ogni alleanza di giocatori quindi ogni player andrà a pescarne 6 che comporranno la sua mano di partenza quindi questo è il vostro pool dell'alleanza mentre queste di qua che avete pescato le 6 che avete pescato andranno a comporre la mano del personaggio quindi vi ripeto dovete sempre avere le 4 miniature i 4 token le 4 carte le 3 carte per ciascuno componendo il mazzo di 12 di partenza e poi questa qua su che è la bonus chart praticamente la bonus chart cosa ci dice ogni volta che un personaggio andrà a pescare spendendo punti esperienza una carta upgrade che ora vi faccio vedere subito dovrà alzare questo cursore che vedete in verde nel caso della squadra verde di un punto quindi che ne so parte da 0 pescate la prima carta upgrade va 1 la seconda va 2 la terza va 3 fino a un massimo poi dopo vedete di 7 o più questo cosa vuol dire cosa ci dice sotto sotto ci dice il numero massimo di carte che possiamo tenere in mano e il numero massimo di carte che possiamo scartare a fine turno quindi a livello di partenza 0 possiamo tenere 6 carte in mano e scartarne una quando arriveremo in fondo passando di livello al livello 7 potremo tenere 8 carte in mano e scartarne 5 perché ovviamente se avete una mano di carte che non vi piacciono e volete scartarle per pescarne di nuove questo non potrete farlo perché ovviamente avrete sempre il limite imposto dal vostro livello per scartare la carta quindi cosa importante in questo gioco è sempre avanzare e far livellare i personaggi la squadra gialla ragazzi non ve la faccio nemmeno vedere perché tanto comunque ha un setup uguale identifichiamo le carte di partenza mescoliamole per fare un mazzo di partenza e siamo pronti per giocare allora di partenza ci sono questo ve lo faccio vedere successivamente le carte dei mostri tenetele sempre a portata perché se compare un mostro dovete sapere quali sono le sue caratteristiche mostro vedete la carta è semplice attacco difesa schivata movimento punti ferita normalmente uguale spiccicato come un eroe i mostri però hanno anche un'abilità speciale personale il livello del mostro vedete qua giù in basso il valore del mostro quindi un mostro di livello 1 e i punti esperienza che darà quindi se il gruppo che gli farà più danno prenderà il primo valore e il secondo prenderà il secondo perché se durante un dungeon ma magari questo mostro ha due punti ferita alla fin fine il primo che ne fa due si prende il punto esperienza ma ci sono altri mostri con due valori e ricordatevi che il primo valore in alto è sempre per il gruppo che gli inferisce più punti ferita e il secondo per il secondo gruppo magari un mostro ha cinque punti ferita il gruppo verde gli fa quattro punti feriti al gruppo giallo gli fa un punto ferita il gruppo verde prenderà il primo valore e il gruppo giallo prenderà il secondo questi sono i mostri queste sono le challenge che comprendono trappole e scrigni ovviamente tesori che possono essere trovate all'interno del dungeon per poi passare alle carte upgrade di livello 3 di livello 2 e di livello 1 queste sono le cose più importanti che ci sono nel gioco perché queste carte upgrade sono le carte che vi metterete in mano per far diventare il vostro mazzo molto più potente quindi di conseguenza anche i vostri personaggi in più due pool qua giù divisi di punti esperienza il primo pool che io l'ho messi randomici ma per farvi vedere un po' come funziona il primo pool di punti esperienza a livello 1 e il pool di punti esperienza a livello 2 più le carte tile del dungeon che all'inizio del dungeon a seconda di quanti giocatori ci saranno se 2, 3, 4 in questo caso è una partita da 2 dovrete girarne 2 del livello 1 ovviamente ci saranno anche quelli livello 2 e livello 3 però inizialmente ne girerete soltanto del livello 1 e li metterete accanto li metterete accanto perché con queste durante le vostre azioni andrete a comporre il dungeon carte invece upgrade che vedete qua su in cima inizialmente la cosa che dovete fare è dal mazzo livello 1 che è questo mettetelo sempre il più a sinistra possibile andate a pescare 5 carte andate a pescare 5 carte che sono sempre le carte di upgrade dei personaggi e la carta di upgrade ci dà una descrizione di quello che fa un costo in punti esperienza che dovete spendere a fine del turno del vostro eroe per poterla acquistare come vedete qua giù in fondo il livello le abilità per quello che vi dà ma soprattutto gli indicatori della classe perché se voi non avete un personaggio che abbia questi due simboli non uno soltanto ma questi due simboli sulla scheda questa carta non la potete prendere perché questa qui è una carta per un guerriero se voi non avete un guerriero nel gruppo con questi due simboli questa carta non la potrete né acquistare né darla a un vostro eroe e questo è praticamente il pool il gioco dice che una volta che tutte le carte sono state acquistate da questo primo livello e soprattutto tutti i token punti esperienza del livello 1 sono stati acquistati si leva automaticamente il mazzo del livello 1 quindi queste sono state acquistate non ci sono più si mettano a posto si rimettano qui e si inizia a pescare carte dal livello successivo dal 2 non appena i token di esperienza del livello 2 sono finiti si leva anche sto mazzo e si vanno a pescare quelli del livello 3 all'inizio del turno dovete sempre posizionare nel primo turno di gioco i vostri eroi all'ingresso del dungeon del vostro tile quindi nel caso del tile verde di partenza uno deve stare sempre sulla porta due lati e uno davanti quindi potrei dire che ne so il mago o comunque il combattente arcano lo metto qui il ladro lo metto qui la guerriera la metto qui e lui lo metto qui avanti quindi questa è la disposizione di partenza del tile di base vi ricordo che il regalo volo è che nel tile di base non si può combattere né in pv né in pvp quindi i mostri non possono venire qua giù ad attaccarvi e tantomeno altri giocatori perché vi ricordo che in questo gioco anche se fate la modalità pvp anche altri eroi potrebbero attaccarvi perché vince il gruppo che a fine dei 4 turni di gioco dei 4 round di gioco ha immagazzinato il massimo numero appunto di punta esperienza io potrei dire va bene nel primo turno vi ricordate vado a pendere ad esempio qui davanti il nano e lui ha questo token qui per riconoscerlo vi ricordate che era sulla scheda e la scheda del nano che vi metto qui davanti la scheda del nano cosa mi dice mi dice che il nano ha 3 di movimento allora io prendo il suo token ovviamente lo giro dalla parte rossa per ricordarmi che il nano è stato utilizzato e come vedete lui ha 3 di movimento io quindi potrei dire ho una porta di qua una porta di qua e una porta di qua comunque mi devo iniziare a muovere per esplorare il dungeon siccome non voglio andare direttamente in bocca alla parte gialla che è lo spawn degli altri del lato gruppo di eroi provo ad andare sopra e a questo punto vi ricordate che all'inizio io vi ho detto che c'è sempre un pool di due di due nuovi tile del dungeon che io posso andare a pescare io potrei dire ma qui cosa ci posso attaccare o questo o questo vado a vedere i simboli che ci sono sopra perché qui mi dice che è un tile livello 1 vedete no c'è un simbolo mi dice che è un tile livello 1 e in più qui c'è un mostro con una challenge livello 1 qui e di qua invece ci sono due mostri con una challenge livello 1 qui la possibilità di fare esperienza è unica di qua la possibilità di fare esperienza è duplice perché ci sono due mostri e ogni volta che ammazzerete un mostro prenderete dei punti esperienza quindi io posso dire va bene a questo punto qui ci metto il tile quello rosso rimuovo quest'altro ci vado a mettere il tile rosso e lo posso collegare come mi pare quindi se io andassi da questa parte qua giù ovviamente devo collegarlo con una porta ok posso collegarlo così porta a porta però regola vuole di questo gioco che è bellina che lo possa collegare anche da una parte così dove la porta non c'è e il regolamento mi dice che se io collego porta di un tile A a un tile B è una porta normale aperta che può essere aperta da chiunque se io invece lo collego con un muro diventa una porta chiusa che servirà a fare un tiro un'abilità sul livello del tile quindi livello 1 del tile io dovrò fare un tiro e superare la difficoltà di quel tile quindi dovrei fare un 2 o più per farvi capire perché il livello del tile è 1 quindi fare scusate uguale o superarlo quindi a meno che non mi venga 0 sul tiro di dado è facile da superare per aprire una porta chiusa però in questo caso qui io dico perché se poi metto la porta da quest'altra parte poi come continuo mi troverei un'altra porta chiusa da qualche parte quindi dico ok collego qui una porta chiusa e qui invece lascio un proseguimento di corridoio ora io farò muovere il mio personaggio vi ricordate c'è 3 azioni quindi l'ho volto e vado qui e ho fatto la prima e con la seconda azione prova ad aprire quella porta vado a tirare il dado che mi dice che ho fatto uno 0 ho fallito però potrei anche ritentare tanto un'altra azione magari ho superato la prova ho aperto quella porta lì e quando andate ad aprire una porta per ricordarvi che quella porta lì è aperta è esplorata mettete prima di tutto il nuovo tile del dungeon sopra e poi metteteci sempre questo simbolino qui di collegamento che vi fa capire che questa porta qui è aperta non è più chiusa e non c'è più da fare nessun tiro al momento che io rivelo la stanza devo rivelare i mostri che ci sono dentro e il tile come vi ho detto questo qui al centro scusate il token di challenge vado a mettere i mostri che ci sono disegnati quindi vado a mettere sopra i mostri che ci sono disegnati qua e magari li giro a favore di telecamera così li vedete meglio quindi ora so che io dentro il dungeon ci sono un mostro uno scheletro con i suoi valori un mostro un goblin e anche sui token c'è scritto le stesse cose che ci sono scritte sulle carte ragazzi e quindi rosso attacco blu movimento verde difesa giallo punti ferita e in più al centro vedete con la freccetta vi dice anche il numero di punti esperienza che vi daranno qui c'è una challenge quindi io ho fatto il primo movimento il secondo movimento e ho aperto la porta vi ricordo ragazzi che ci si può muovere sia ortogonalmente che anche in diagonale in questo gioco l'unica regola è che gli attacchi si possono fare soltanto ortogonalmente quindi a questo personaggio mi rimane un attacco e mi rimane scusate un movimento io potrei dire va bene come movimento se entro dentro il dungeon se entro dentro il tile automaticamente rivelo quello che c'è sotto la challenge che potrebbe essere uno scrigno o una trappola io spreco un altro movimento da fuori per vedere che cosa c'è qua giù dentro prima di entrare è meglio insomma sapere se c'è un tesoro o una trappola quindi vado a rivelare il token qua sotto e questa volta mi è andato bene dice che c'è una chest chiusa le chest chiuse sono chest tesoro che dovete fare un altro tiro con il valore con il livello della chest quindi è uno quindi col dado dovrete fare sempre o uno o più per andarla ad aprire e scassinare e una volta che l'avete aperta andrete da questo mazzo qua giù a pescare la carta Locked chest e vi dirà che cosa avete trovato all'interno e che cosa dovrete fare praticamente avete trovato un tesoro però ci sono anche le mostri qua giù dentro e vi ricordate come vi ho detto che i mostri hanno dei valori come quelli dei personaggi mettiamo caso nello stesso turno o nel turno successivo il nano entrasse dentro la stanza potrebbe dire ok io attacco questo mostro che ha un valore di difesa di uno il nano qua giù sulla scheda ha l'icona della razza e le due icone della classe quindi io nel mazzo che ho pescato all'inizio devo per forza di cose andare dalle sei carte che ho in mano devo per forza di cose usare azioni ok per attaccare che poi posso attaccare anche normalmente senza usare carte il problema è che il nano ha una forza di uno come vedete e il nemico ha una difesa di uno e il gioco vuole che se c'è un pareggio quindi un uno contro un uno non succede niente bisogna sempre superare la difesa del nemico che si va a attaccare quindi in questo caso mi sarebbe praticamente inutile però io delle carte che ho in mano posso dire ok gioco questa perché come vedete non solo è sua in particolare però cosa mi dice icona razza e due icone classe quindi questa qui è una carta che io posso dare a questo nano e questa carta qui gli dà dei vantaggi e mi dice che per questo round qui tutti tutti gli eroi a tre spazi nelle vicinanze da me entro entro il personaggio entro lui hanno un bonus di più uno al movimento e poi più uno al combattimento o al tiro con l'arco io potrei dire va bene questo mi serve per dargli un più uno al combattimento che va a due quindi ora uno più uno della carta avrei un valore di due con la mia ultima azione perché nel gioco si può sempre fare un movimento e un attacco uno soltanto oppure se non fate attacchi potete fare due movimenti oppure se non fate movimenti potete fare due attacchi con l'unica differenza che non potete fare due attacchi verso lo stesso bersaglio quindi nel caso potrei fare un attacco a questo e se ho un arma range potrei fare un attacco a quest'altro però nel caso attacco questo quindi ora che ho un valore di due a forza e questo vostro ha un valore di uno come vedete no? a difesa automaticamente non c'è da tirare dadi ragazzi è tutto un gioco di carte e gli ho fatto un punto ferita punto ferita del mio colore che sono questi mattoncini di legno colorati verdi e quindi avendogli fatto un punto ferita io devo andare a prendere questo mattoncino togliere qui mettere il mattoncino qua sopra per ricordargli che gli ho fatto un punto ferita e metterci sopra il mostro così guardando sotto mi ricorderò non solo l'ammontare dei punti ferita che gli ho fatto ma anche qual è stata l'alleanza che gli ha fatto quei punti ferita lì il turno si avvicenda sempre con si dà l'iniziativa mettiamo a caso che l'iniziativa è del giocatore verde io cosa dico la prima azione è del nano seconda azione è di un eroe invece del gruppo giallo si passa al secondo round terza azione è di un altro eroe verde quarta azione è di un altro eroe giallo così un eroe ti un eroe il tuo avversario un eroe ti un eroe il tuo avversario quando tutti quanti sono stati mossi quindi tutti e quattro gli eroi alternandosi uno te uno io uno te uno io uno a uno b sono stati utilizzati si girano tutti quanti ovviamente i token sull'utilizzato e a quel punto passando dall'ultimo giocatore che ha mosso e andando a ritroso fino al primo che c'ha l'iniziativa bisogna muovere i mostri perché a questo punto qui i mostri la regolabilità di questo gioco è che nella modalità normale basica in quella cooperativa no ma in quella basica i mostri vengono mossi dalle alleanze di giocatori per questo che gioco si chiama Dungeon Alliance quindi mettiamo a caso che questi mostri siano ancora in vita ok adesso tocca al giocatore giallo nel suo primo nella sua prima azione delle quattro complessive che dovranno essere giocate in questo turno di muovere i mostri e lui dice questo non morto questo teschio qui lo muovo io e attacca il giocatore verde attacca il nano oppure si sposta delle sue due azioni e attacca il barbaro la donna qui la mazzone muove fa la sua mossa fa gli attacchi fa tutto quanto con le azioni del mostro i mostri non giocano carte quindi i valori che hanno segnati quelli sono e quelli rimangono non hanno bonus di nessun tipo ok finita l'azione del giocatore giallo si passa al giocatore verde che dice sai che c'è c'è un altro mostro qui con 5 azioni io te lo muovo in corpo a corpo e ti attacca invece il sicario il ladro l'assassino il gioco è tutto così ragazzi ogni volta che si ammazza un mostro si prendono tot token punti esperienza mettiamo caso che il verde abbia ucciso questo abbia fatto un punto esperienza si prenderà un punto esperienza e con questo punto esperienza potrà comprare carte e le carte upgrade hanno sempre un valore e un costo in punti esperienza e il costo di punti esperienza si vede sempre in cima alla carta qua giù in alto quindi il gioco ragazzi è tutto un esplorare dungeon aprire stanze quindi il dungeon crearlo fare azioni di trovare trappole disarmare trappole perché se al posto di uno skin ci fosse stata la trappola il primo eroe che entrava nella stanza se la beccava la scattava però da un tile adiacente almeno che non ci fossero mostri sia nel suo tile che in quello dove va a fare l'azione provava a scassinare una trappola poteva farlo tranquillamente e la trappola veniva distrutta nel caso la trappola fosse scattata le avrebbe fatte un punto ferita quindi è tutto un gioco di mazzi di carte costruirsi in mazzo di carte fare azioni gratuite senza carte però usare carte della stessa razza e della stessa classe del vostro personaggio che vi andranno a dare dei bonus quindi il personaggio si muove benissimo da solo ragazzi senza bisogno di carte ma saranno le carte upgrade che giocherete che andranno a dargli la possanza avete le 12 di partenza che sono 3 per ogni eroe quindi 3 per 4 12 più i mazzi livello 1, 2, 3 degli upgrade che potete comprare direttamente con i punti esperienza stessa cosa se invece di attaccare un mostro un giocatore un player che ne so al verde vuole attaccare un eroe giallo è uguale ragazzi andate sempre a vedere il livello di attacco dell'attaccante e il valore di difesa del difensore la differenza fra i 2 che ne so 5 di attacco e 3 di difesa fa 2 saranno i punti ferita che quell'eroe si beccherà poi ci sono attrazioni particolari come arrest recuperare i punti ferita sprecare due carte bruciarsi due carte dalla mano per acquistare una forza una movimento e recuperare due punti ferita quelle sono tutte regole opzionali però il gioco è questo crearsi un mazzo di carte guardare l'iniziativa fare i propri movimenti e finisce il dungeon finisce quando tutti quanti i tile non c'è un tempo eh ragazzi la partita finisce quando tutto il dungeon è stato rivelato e tutti i mostri all'interno del dungeon sono stati distrutti quindi quando tutti i tile sono stati rivelati tutte le quest fatte perché c'è anche la modalità quest e tutti i mostri uccisi si fa la conta dei punti esperienza guadagnati da ogni singola alleanza e chi ha anche un punto esperienza di più ha vinto quindi conta alla fin fine vincerà chi avrà nel conteggio finale più punti esperienza e questo è il gioco ragazzi in conclusione il gioco è questo io vi ho fatto vedere se no veniva un video di 89 minuti perché vi ho fatto vedere la modalità pvp ma c'è anche quella cooperativa e cambia le regole c'è quella pve e cambia le regole c'è quella a campagna che ha ancora più regole io vi ho fatto vedere come al solito un'infarinatura e il gioco è bello però è troppo incasinato vi dico la verità non come regole come regole vi giuro secondo me Zombicide ha più regole di questo gioco cioè è facilissimo c'ha veramente pochissime regole e oltre poche c'hanno anche facili però il problema è che è troppo 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 incasinato questo Dungeon Alliance perché c'è troppe carte cioè non è che sono tante le regole sono tante le carte che devi tenere a mente che c'è allora devo ho usato il personaggio stappo il token lo ritappo quella carta lì ha un valore di 1 quindi il livello il numero 1 è quello del personaggio che ne so del nano oltretutto non vi ho detto una cosa prima che ho messo potete usare un tipo di carta per turno quindi se avete usato una carta blu attacco non potete usare un'altra carta blu attacco ma potete usare una carta rossa incantesimo oppure verde di incantesimo di potenziamento o contrattacco perché ci sono anche contrattacchi ci sono troppe cose da tenere a mente troppe carte si finisce anche qui per incasinarsi da paura perché davvero ti scappa una carta che puoi sbagliare è che ci sono 5 mazzi più 5 pile degli scarti metti te che una carta delle tue del tuo gruppo delle 12 che c'è in mano la scarti per sbaglio nella pila dei challenge livello 2 dove è finita quella carta bisogna bloccare il gioco e andarla a ricercare c'è troppe 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 cose e poi ragazzi sinceramente posso tollerare tutto e il voto è positivo del gioco se no io ve l'ho detto i giochi brutti nemmeno li vado a chiedere agli sviluppatori quindi o agli editori nemmeno mi sognerei mai di portarvi un gioco che non mi piace però io ve ne faccio vedere una ragazzi nel 2019 senza offese per l'amor di dio il gioco costa poco e anche per quello perché tutto quello che avete visto con nemmeno lo ho portato a casa ma comprese anche le espansioni di kickstarter però non si può vedere questo cioè questo è un mostro ora magari anche il disegno sulla carta è bellino del goblin vedete no il disegno sulla carta del goblin col token e anche le miniature sono carine perché le miniature dei personaggi del nale di tutti gli altri sono carine però ragazzi non si può cioè nel 2019 con ho capito che non siete l'acmon o altri però c'è questo è un mostro sul dungeon un quadratino che magari domani per rimettere a posto tutta la porta a casa dell'amico lo perdo quindi ho perso il mostro cioè no ragazzi almeno i mostri andavano fatti in plastica a maggior ragione perché poi non ce ne nemmeno tantissimi capito qui a parte le miniature di partenza le 16 miniature dell'eroi più le altre 4 vabbè le 20 dell'espansione del kickstarter mettendoci anche tutti i mostri potevano essere 50 miniature capirei mai magari il gioco invece di costare 100 euro ne vedeva costare 120 130 e ce le mettevi questo me lo fa calare veramente tanto non mi ci calo io nella parte sono bellini i disegni però vedere una miniatura bellina una miniatura bellina fatta bene del nano che va a fronteggiare nel dungeon un token perlomeno fate come gloom heaven invece delle miniature non ce le volete mettere e costano troppo metteteci gli standi mettetecele fatte in cartoncino con la basetta sotto ma renda già di più cioè bellina è brutta cioè non sa di tanto ecco come come avvicinamento però va bene anche questo passi perché le meccaniche del gioco sono interessanti mi garba molto il fatto che non c'è tiro di dado per quanti lo sapete adoro hero queste perché è molto semplice è tutto basato sul tiro di dado però ci sta cioè sembra anche di fare una partita magic quella carta lì si incastra bene con quei o a earthstone si incastra bene con questa magari non sai le carte che ha in mano il tuo avversario se giochi pvp e te gli giochi questa e lui ti gioca quella parla una partita a poker alla fin fine lui ti gioca quella te quella te alla fin fine ce ne butti un'altra è fatto più di lui e l'hai sconfitta ed è anche bello cioè sembra veramente una partita a carte però è troppo non è complicato voto alle regole 10-10 perché non è complicato però ti incasini cioè ti va in carta e basta veramente che una carta la butti nella pila dove non doveva andare hai rovinato il gioco lo devi bloccare e devi stare a girare tanto tempo per ritrovarla quindi se le devo dare un voto che è abbassato di due punti le do un 7 su 10 meritato però ragazzi non fosse stato per queste carte secondo me facili ribadisco però troppo ingarbugliate perché ora abbiamo giocato in due immaginatevi a giovan 4 c'è un tavolino pieno zippo di carte che anche di buono una ti casca per terra hai bloccato il gioco a tutti quindi vuoi per le meccaniche molto macchinose delle carte e vuoi perché vi ripeto secondo me non è un'offesa però nel 2019 non si può vedere questo perché pedine belle in plastica degli eroi e un tokenino secondo me ci sfigura da morire e do due punti in meno però comunque è un ottimo è un 7 su 10 che ci sta tutto poteva essere migliore secondo me è la classica gemma questo gioco che non risplende gli manca poco c'è veramente un bellissimo un bellissimo veramente una bellissima gemma però grezza avete capito cioè hanno voluto tirarlo fuori in una certa maniera potevano lavorare c'è un'ottimura ah e poi aspettate il contorno del tile che si stacca ogni 3 secondi perché non è incastro come i giochi della fantasy flight è proprio appoggiato semplicemente quindi basta che lo tocchi appena appena si sposta e volano tutti quanti i tile del dungeon fuori cioè non deve volare una foglia se dovete chiudere le finestre non ci deve nemmeno essere uno spiffero di vento perché sto gioco vi vola via di asa e poi troppi token i coriandoli io non li posso vedere comunque un 7 su 10 e ringrazio ancora una volta la Quixotic Games per avercene fornito una copia per la recensione con tutto il Kickstarter ragazzi se cercate un dungeon crawler prendetelo perché è alternativo a Massive Darkness a Hero Quest a Zombicide molto alternativo perché questa ha delle meccaniche che sono sue non le trovate assolutamente in nessun altro gioco e chi adora magari magic nei deck building qui troverà pane per i suoi denti però è veramente troppo 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 macchinoso cioè troppo finisce una partita a questo gioco dopo 3 ore ti fuma il cervello quindi un 7 su 10 ragazzi vi ricordo il link in sovraimpressione anche in descrizione pagina Typee nel caso vogliate fare una donazione per supportarci o comunque insomma fare andare avanti il nostro progetto un piccolo supporto casella postale nel caso vogliate mandarci un regalo un board game un gioco di carte qualcosa che ci faremo un video un unboxing sempre ringraziandovi link dove acquistare il gioco è importante quindi se vi interessa avete il link anche dove andare ad acquistarlo e ultimo ma non meno importante anzi il più importante ragazzi è la nostra pagina Instagram di maledetti dadi iscrivetevi perché è la cosa più importante che abbiamo qui a parte il canale YouTube quella è la seconda cosa più importante e ci serve Instagram anche e soprattutto a parte per farvi presente che è uscito il video ma anche e soprattutto per darvi piccole recensioni pilloline regolarmente quindi se volete restare aggiornati con quello che succede sul canale e YouTube al solito non vi manda la notifica Instagram è perfetto ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto abbastanza lungo ma c'era tanto da spiegare e vi ho spiegato va sicuro il 50% del gioco fatemi sapere cosa ne pensate e io ringrazio ancora una volta la Quick Sotic per avercene fornito una copia recensione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi